E buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata un po' particolare perché si festeggia San Nicola e quindi è il mio onomastico. È sempre stata una giornata che, specie qui a sud, si festeggia più l'onomastico che il compleanno. Quindi mi stanno arrivando pure tanti auguri che veramente mi emozionano perché tantissimi su Facebook, su WhatsApp, insomma anche su YouTube. È qualcosa di meraviglioso. Noi abbiamo questa tradizione qui a sud, è così. Io pure quando collaboravo con la pubblica amministrazione si usava a offrire questi dolci in occasione dell'onomastico non solo all'ufficio legale nel quale io stavo ma a tutti i colleghi. E quindi è un qualcosa che si ripete ogni anno e a me fa molto piacere. Quindi voglio condividere questa gioia con voi, un santo molto importante, San Nicola. In Russia coincide con Babbo Natale, in effetti. Un'antica tradizione di questo Vescovo, le cui spoglie stanno a Bari, quindi protettore della città di Bari. Quindi un legame molto forte anche con l'Italia. Approfitto di questo breve video per fare questa rubrica, adesso è un po' di giorni che non la facciamo, a cuore aperto. Cioè praticamente mi piacerebbe che voi mi facesse delle domande sotto questo video, nei commenti. propone qualche riflessione, qualche domanda, qualche curiosità, alla quale domani io farò un video risposta. Ovviamente preciso, come le altre volte, che se qualcuno preferisce farmi una mail, per motivi più di riservatezza, di privacy, può anche esprimermi sulla mail la problematica alla quale risponderò domani, ovviamente sempre nel rispetto della privacy di ciascuno. Quindi vi aspetto numerosi, così ci confrontiamo, perché sapete che a me piace molto confrontarmi con voi e questo canale veramente mi sta dando molte soddisfazioni. Credo che certamente arriveremo a 9.000 iscritti per fine anno. Un traguardo al quale circa un anno fa non avrei mai creduto, ma soprattutto mi gratifica il vostro interesse, il vostro affetto. Io lo vedo perché traspare dai commenti che tutti voi mi fate. Quindi è questo è. Oggi non farò niente di speciale, starò con i miei figli, gli amici. Il tempo è brutto fuori, quindi non si fa niente di che. Però non è importante il dove andare, ma il sentirsi circondati dall'affetto di chi ti vuole bene. Questo è pure il messaggio che voglio lanciare a voi, perché molti mi dicono di avere tanti problemi nei quali noi non ci dobbiamo fossilizzare. Noi abbiamo il dovere di cercare sempre la felicità, abbiamo il dovere di farlo perché non abbiamo alcun tipo di alternative. Quindi grazie ancora, vi aspetto numerose le vostre domande sotto al video e festeggio oggi quindi il mio onomastico e condivido questa gioia con voi. Quindi con lo sfondo dell'albero di Natale che abbiamo preparato vi lascio e vi do un abbraccio con tutto il cuore. Ciao a tutti.